La figlia di Michelle Adaway, Karen e la sua amica Nicola Fellos, sono state trovate aggredite sessualmente e strangolate negli omicidi di Babes in The Wood La BBC si è detta estremamente dispiaciuta per l'angoscia causata alla madre di una studentessa assassinata che afferma che Martin Bashir ha preso i vestiti di sua figlia e non li ha mai restituiti. Michelle Adaway afferma che Bashir ha ottenuto i vestiti per il test del DNA per un programma per il programma Public Eye della BBC Two 30 anni fa, ma l'indagine non è andata in onda e le sue chiamate all'emittente sono state ignorate. La figlia della signora Adaway, Karen, e la sua amica Nicola Fellos sono state trovate aggredite sessualmente e strangolate in un bosco a Brighton nell'ottobre 1986 in quelli che sono diventati noti come gli omicidi di Babes in The Wood. Le famiglie delle due ragazze hanno trascorso decenni a combattere per la giustizia dopo che il loro assassino, Russell Bishop, è stato inizialmente dichiarato non colpevole dei loro omicidi nel 1987. La signora Adaway in precedenza aveva detto che Bashir era andata da lei nel 1991 e aveva chiesto di sottoporre a test il DNA dei vestiti di sua figlia, dicendo che la scienza era progredita nei cinque anni successivi agli omicidi, ma non ha mai restituito i vestiti. A seguito di un'indagine del Mail on Sunday, la BBC ha dichiarato di essere sconvolta che i vestiti siano andati persi. Un portavoce della BBC ha dichiarato. La BBC è estremamente dispiaciuta per l'angoscia che ciò ha causato alla signora Adaway e siamo profondamente dispiaciuti di non essere stati in grado di darle alcuna risposta su quanto accaduto. Siamo sconvolti dal fatto che questi vestiti siano andati persi dopo essere stati ottenuti nell'ambito di un'indagine per un programma della BBC. Stiamo continuando a esaminare la questione in seguito all'inchiesta Dyson e, come parte di ciò, abbiamo chiesto a un ex dirigente senior della BBC di rivedere ciò che è accaduto in questo caso, compresa l'indagine del 2004, e vedere se è stato perso qualcosa che potrebbe aiutarci individuare i vestiti.